Buenos Aires, giugno 1946. Il popolo acclama il suo nuovo presidente, Juan Perón. Io, Juan Perón, giuro per Dios, nuestro Señor. Il suo giuramento segna l'inizio di un nuovo capitolo della storia argentina del XX secolo. Ma l'uomo che diventerà per tre volte presidente dell'Argentina, nasconde dei segreti che potrebbero distruggergli la carriera e mettere in pericolo la sua vita. Segreti che solo recentemente sono stati portati alla luce, grazie alle ricerche di un gruppo di storici argentini e alle rivelazioni di un amico di Perón. Quello che hanno scoperto getta una nuova luce su uno dei più importanti personaggi del XX secolo. Grazie a tutti.